andiamo a ballare eccomi eccomi sono qui siamo pronti a individuare qual è la disciplina di danza sportiva preferita da voi delle spettatori sì e oggi c'è la seconda e ultima semifinale tra moderne e sincronenze e poi chi otterrà il maggior numero di voti andrà al ballottaggio e alla finalissima della prossima settimana come sempre organizza questo torneo la fizz della federazione italiana danza sportiva andiamo subito a presentare le squadre la prima squadra si dirà in un modern ragazzi siete pronti ciao a tutti noi veniamo dalla sicilia settimane da pozzallo rappresentiamo la dance in freestyle nella coreografia di manuele spadaro e ne voglio approfittare visto che oggi è il 13 e la festa della mamma auguri a tutte le mamme d'italia auguri mamme bravo allora voi da dove venite noi siamo da nettuno danze di bologna e presentiamo una coreografia ispirata alle musiche di lasia minelli della maestra luciana barsi grazie mi fate gli auguri a mamma auguri mamma auguri a tutte le mamme alla fine sarete voi a riuscire con il televoto quale esibizione avete preferito e per l'appunto dovranno conquistarsi il favore da casa in bocca al lupo ragazzi come on babe why don't we paint the town and all that jazz I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down and all that jazz start the car I know a whoopee spot while the gin is cold but my piano's hot it's just a noisy hall where there's a nightly bra and all that jazz and all that jazz come on babe I don't want to paint the town and all that jazz and all that jazz and all that jazz I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down and all that jazz and all that jazz and all that jazz start the car I know a whoopee spot while the gin is cold but the piano is hot it's just a noisy hall where there's a nightly bra and all that jazz jazz put down the knitting the book and the broom it's time for a holiday life is a cabaret oh chum come to the cabaret come taste the wine come hear the band come blow your horn start celebrating right this way your table's waiting what would's permitting some prophet of doom to wipe every smile away life is a cabaret oh chum it's only a cabaret oh chum 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 bene mettetevi in posizione da questa parte cari amici di Bologna chum siamo pronti è il momento del televoto allora se avete preferito la squadra numero uno che si esibita in un modern dovete chiamare da telefono fisso il numero 89 44 33 poi digitare uno bravi ragazzi oppure chiamare da telefono fisso il numero 89 44 33 no si dovete mandare un sms al numero il numero quello che l'ho detto di telefono 478 4785 scrivendo uno sms telefono telefono sms buongiorno Miriam telefono casa se volete votare invece la squadra numero due che si esibita ricordi in una sincronenza 89 44 33 digitate due oppure sms al 478 4785 digitando due va bene così dai dillo dillo aspetta perché aspetta io devo aspettare eccolo via al televuoto bene complimenti ragazzi che si sono esibiti bravi oh tu hai detto via il televuoto e allora io dico via al tg1 momento del verdetto grazie brava ragione tiberio vieni abbiamo pochissimo tempo però non possiamo fare sbirciare 55 per cento delle preferenze vince sincro dance bravi anche voi bravi ragazzi allora noi si fermiamo qui tribuglio tribuglio ancora auguri a tutte le mamme auguri mamma mamma auguri eh non la vedo mia mamma ho capito dopo ti chiamo mamma dopo ti chiamo mamma auguri esista anche skype arrivederci buona domenica ciao grazie ciao